Questa è la percussione ascoltata. Arriva qui, io qui ci farei un segno, che poi cambia perché lo stomaco è giusto a me che afferma, ma uno che va per la prima volta ha un'idea, poi se lui lo sente più basso, dice io lo sento qui. Allora, percussione rapida dall'esterno all'interno. All'esterno senti un suono che ti arriva nell'orecchio, lontano, debole, perché tu devi percutre debolmente per impedire alle onde che rifrangano e rifrangano. E allora lo stomaco non ti sembra che se io faccio così credo che scenda, che sia larga, ma è un errore, un errore di metodo.